Dopo Aquisgrana, nulla sarà più come prima. Ma abbiamo un punto d'appoggio per l'invasione. La porta per il Reno è aperta e non si torna indietro. Non più. L'ordine era di prendere l'hotel e non di evacuare dei civili. Chi ha deciso di soccorrerli? Pensavamo di avere tempo, signore. Ma ben ricordo è Turner che dà gli ordini, non sei tu. Comanda lui adesso? No, signore. Ho deciso io. È colpa mia. È colpa di tutti e due. L'ultima cosa di cui ho bisogno di preoccuparmi è che due dei miei migliori uomini non seguano gli ordini. Stiamo per cominciare l'operazione più importante della guerra. E vi ricordo che saremo noi a condurre l'offensiva finale verso il Reno. Dobbiamo ripulire un'intera foresta per far passare il convoglio. Da adesso in poi pretendo il meglio da voi. Alzate quei culi insubordinati e pronti a marciare. Sono passate tre settimane. Siamo nella foresta di Hortgen a scombrare il passaggio del convoglio verso il Reno. Devo confessarti che purtroppo ho aperto solo ora la tua lettera. Se è finita ti consoliamo noi. Te l'avevo detto. College, lascialo parlare. Dice che è incinta. Wow! Ehi! Che notizia! Bene! Daniels sta per diventare papà. Lei ha cercato di dirmelo, ma... Non ero pronto a sentirlo. Ho capito. Mi faccio una tazza di caffè. Fatemi compagnia, lasciamolo in pace. Ma io non voglio caffè. Invece sì. Sono al quinto mese. A volte provo una speranza che non so descrivere. Perdonami se te lo dico solo adesso. Ci ho provato il giorno in cui sei partito. Voglio tutti intorno a me! Dov'è Daniels? Deve sta parlando. Andiamo. Arrivo! Hürttgen è un posto buio e quasi impenetrabile. La missione è occupare il colle 493. Una volta arrivati, domineremo tutta la valle. Per dei soldati comuni sarebbe un'impresa impossibile. Ma la divisione vanta una lunga storia di primati. Nella Grande Guerra siamo stati i primi a respingere un attacco tedesco. I primi a contrattaccare. I primi a superare il reno. Nulla ci ha mai fermati. E nulla ci fermerà. Tenente, ricorda ciò che siamo. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Chillo più forte. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Adesso pronti all'azione. Prima il dovere. Si torna nel tritacarne. Amen, fratello. Si parte tra cinque minuti. Ehi, Daniels. Puoi farmi un favore e portare da mangiare a Willis? Sta sorvegliando il perimetro. Va bene. Grazie mille. Sta tenendo d'occhio la valle. Hanno piazzato migliaia di mine. Buongiorno, soldato. Buongiorno. Buongiorno. Un omaggio dello chef. Solo per i migliori, eh? Grazie. Com'è la situazione? Guarda tu stesso. Quelle armi non mollano. Attaccano di continuo. So che oggi le farete tacere. Questo è il piano. Allora, buona fortuna. Grazie. Primo plotone in movimento. Come? Bene. L'obiettivo è eliminare l'artiglieria sul colle per controllare la foresta. Per prima cosa ci uniremo con il secondo plotone al fiume. E da lì attaccheremo. Che tipo di resistenza troveremo? Pesante. Soprattutto il ponte sarà un bel problema. Noi aiuteremo a conquistarlo. Wow! Davis ha messo su il più grande convoglio corazzato della storia. Se con questo i crucchi non se la fanno sotto, nulla ci riesce. È ancora lunga fino a red. Per questo dobbiamo colpire quelle armi e tenerli sul chi va là. Occhi aperti! Siete nella fabbrica della morte! Ehi, Giuse. Con il freddo la vecchia ferita si fa sentire. Sai, mia nonna si era rotta un'altra. E ogni inverno... Sembro forse tua nonna. Ora che ci penso. Facciami le chiappe gelate. Preferirei quelle di mia nonna. Grazie per la bella immagine. Tutti con me! Mark, come stanno i tuoi? Quei bastardi non ci mollano. La prossima ondata sarà qui a momenti. Primo plotone, dobbiamo aiutare i nostri colleghi. Avanti, riprendiamoci in fronte! Allestire le difese! Prendete le mine e preparate le mitragliatrici! Barclay, Cooper, andate al ponte e segnalate qualsiasi movimento. Bisogna rafforzare quelle difese! Piazzate quelle mine! Signore, non dovremo attaccare l'artiglieria al colle 493? Non possiamo esporci troppo. Avanzeremo al punto d'incontro solo quando il ponte sarà sicuro. A giudicare da queste buche non sarà facile. Qui non c'è niente di facile, soldato. Vedete i denti di drago tedeschi? I nostri carri non possono passare. Sì, penso servano a quello. Dalla nebbia escono dei crucchi. Al riparo, posizioni difensive. Teniamo duro. Posizioni d'attacco! Pronti a ingaggiare! Ecco che arrivano! Tenersi pronti! Inganciare! Fuoco! Ecco i tedeschi! Muoversi, muoversi! Si avvicinano da sud! Lo sentiamo, forza! Emici in arrivo da città! C'era lo scopendo! Fuoco! Venite il movimento! Esco! La cosa è la scoperta! 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 Presa! Presa il movimento! E taglia o più una! Non lo sento! Ricarico! Vieni in giro! La cosa è la scoperta! Presa! In movimento! Procediamo, forza! Ecco, arrivano! Vieni in giro! Attaccano! Guardi in palo! Fuma! Sordino, muoverla! Tenersi pronti! Usano il fumo come copertura! Arrivano! Fuoco! Fuoco bassi! Non troppo più in sangue! Truppe SS! Rimpiegare alla testa di Ponte Ovest! Ritirata! Non riesco a muovermi! Taglia ore 4! Non riesco a muovermi! Fuoco! Qualcuno mi aiuti! Teni duro! Sbrigiamoci! Porca mia via da qui! Stiamo tutti al basso! Cazzo! Cazzo! E la terra! Crocchia in sacchi di sabbia! Settiamo! Pianchi! Carro nemico! Panzer in arrivo! Panzer! Servono mine, granate, qualsiasi cosa! Signor sì! Trovo con una granata! L'albero sta trovando! Focchio! Certo! La terra! Ucidia a canna liscia! Giù! Sinistra! Guardate, nemico! Ad avanti! Versaglio, ore 11! Avanzare! Rindiamo aspetto! Nemico in direzione sud! Osteso! Frizza in movimento! Versaglio, scoperto! Assetto! Ricarico! Contatto, ore 3! Anteriore emica! Bene, Daniels! Prendiamo i Panzer! Sletta i nemici! Albero, colpito! Facciamo attenzione! Ho preso! Nemico in movimento! Ho preso! Nemico in movimento! Cercate armi sui cadaveri! Facciamo attenzione! Sletta! Grande, Daniels! L'hai quasi distrutto! Cercate armi anticarro! Avanzare! Nemico in movimento! Arrivano! Davanti a noi! Daniels! Cerca un Panzerschreck! Tieneschi! Lo steso! Tieneschi! Panzer eliminato! Facciamo attenzione! Stanno scappando! Si ritirano! Daniels, vieni qui! Ben fatto, Daniels! Primo plotone! Formeremo due squadre, chiaro. Pearson, vai a nord, supera il ponte e raggiungi il colle. Io seguo il fiume con l'altra squadra e vi copro le spalle. Appuntamento ai piedi del colle 493. A presto. Fa attenzione là fuori. Anche tu. Munizioni per te, soldati. Spero che dividersi sia stato saggio. Se i crucchi attraversano il fiume, l'intera missione sarà a rischio. Per questo dobbiamo guardare le spalle a Pearson. Quanto manca al punto d'incontro? Presto saremo ai piedi del colle 493. Dobbiamo solo seguire il fiume. State giù! Dobbiamo farli fuori, ma quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi, senza farci vedere. Daniels, stai giù! Ok, Daniels. Al più se... Fuori! Oh! Dani la mitragliatrice del semi cingolato! Ehi, guarda! Ehi! 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 State giù! Dobbiamo farli fuori, ma quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi, senza farci vedere. Daniels, stai giù! Eh? Ok, Daniels! Al tuo segnale! Fuoco! Primo di patone, avanti! Sono da sud! Le denziano a scoperto! Mi spavano! Trasera, sinistra, in scoperto! Filo, vai nu! Dritto in testa! Avanti! Panteria tedesca! Ecco che arrivano! Qui ho granate fumogeni! Si stanno muovendo! Il movimento! Grattano a sinistra! Tiro una granata fumogena! Qui ho granate fumogeni! Vicino al tronco! Un nemico esce allo scoperto! Daniels, granate fumogeni! Colpo da maestro! Prendi! Ripiegano! Truppe d'Aus! Arribano! Dai, andiamo! Tiro una granata! Lancio una granata! Munizioni da darti, soldato! Li abbiamo fatti scappare! Stanno scappando! Seguiteli! Arrivano da sud ovest! Al tronco! Sono a corte di munizioni! Tieni, soldato! Versaglio ore undici! Sì, li pronti! Ripiegano! È a terra! Esce allo scoperto! Fuoco! Nemico in movimento! Panteria nemica! Oh, merda! Cazzo, è una trappola! Ci hanno visti! Andiamo! Artigneria, è una trappola! Muoversi! Artigneria, via! 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 Tutti! Andiamo in movimento! Avanzi! A sinistra! Su per la collina! Sinistra! Sinistra! Prego! Su per la collina! Alza Tiret! Alza Tiret! Né ora, né mai. Paul! I cruchi arriveranno a momenti. Mostra di che pasta sei fatto e rimettiti in piedi. Ho paura di non farcela. Devi farcela. Per Eisel e per tuo figlio, Red. Alzati! Lo farò. Ovvio, tu sei uno che non si arrende mai. Ho fiducia in te, fratello mio. Paul! Paul! Ci vediamo a casa, fratellino. Briggs! Oh mio Dio! Devo trovare il punto d'incontro. Merta! Oh, Merta! Oh, Merta! Oh, Merta! Oh! Merta! Oh! Ci rendiamo! No! Aspettate! No! No! Donner! Ci rediamo! No, aspettate! No! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! 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 No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! Non riesco a muovermi! Devi aiutarmi! Mi porteremo in salvo! Lo salveremo! Fa da ogni costo! Dobbiamo sbrigarci! Non posso camminare! Qualcuno mi aiuti! Non posso camminare! Non posso camminare! Possiamo provare a beccarlo da qui! Io lo distraggo! Tu vai a stanarlo! Ti copro le spalle! Non è solo! Non posso camminare! No! A-a-a-a-a-a-a- off zei! Ah! 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 We're at terra! Ben fatto, Daniels. Muoversi. Con me. Zona sicura, ma quel soldato non doveva morire. Andiamo. Manca poco al punto di incontro. Spero che i nostri siano arrivati. Pagliata. Pagliata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nostri devono essere vicini. Aspetta! Stiles, sei tu? Senente! Ci tengono bloccati! Venius, aiutiamo il nostro plotone a controllare l'area. Subito, signore. Prezzo, ci arrivano! Eliminiamo quella mitragliatrice! Devo ricaricare! Un nemico esce allo scoperto! Avanzare! Pichiamoci! Come out, a deck of! Contatto, ore una! Addavanti! Sud-est! Escono allo scoperto! Amici! Avruccendo! Mettoli! Crucchi ai sacchi di sabbia! Aiuto! Prezzo, lo scoperto! Fa! Prezzo! Centro! Devo ricaricare! Nemico in movimento! Mettoli! Prezzo! Prezzo, in movimento! Un nemico esce allo scoperto! Un nemico esce allo scoperto! Signore, mi servono altri colpi! Vicino! Tieni, Daniels! Muoversi! Muoversi! Escono allo scoperto! Fuoco! Bevegung! Bevegung! Sud-est! Direkt for out! Nemico in movimento! Da kommt einer aus der Deckung! Fall los! Fall los! Du willst ein Rettrack! Freizza in movimento! Dreckingang! Scheiße! Ich muss nachladen! Bevegung! Bevegung! Ziel auf ein Uhr! Yankee schweine! Bevegung! Die Amobast! Oh, ein Zappo vicini! Yankee! Feuer! Kavi, eine, zwei, drei, drei! Bevegung! Krookie! Krookie ai sacchi di sabbia! Su, da ovest! Pescono allo scoperto! Sie wollen ausbrechen! Los, jetzt! Rücke vor! In arrivo da ovest! Dai, andiamo! Rippiegano verso la casa! Avanti! Dobbiamo occupare l'area! Presta saverana! Barat! Contatto! Ore una! Yankee! Siamo attenzione, aspetti! Soldati nemici! Attacca! Sono a secco, ricarico! Daniel, sono munizioni! Quello era l'ultimo! Perfetto, Daniels! Squadra, radunarsi al ponte! Useremo il mulino come punto d'appoggio! Appena arriva Pearson, avanziamo al punto di incontro! Arrivo, signore! Siamo fissati con i ponti! Prendi delle munizioni, Daniels! Daniels, raggiungimi al ponte! Cazzo! Ciacchini! Ma riparo! Sparategli! Sono a corte di munizioni! Occhio, Daniels! Truppe tedesche! Contatto, ore dodici! Anno a noves! Sono davanti! Ex, l'ho scoperto! Cuoco! Ecco, si arrivano! Ricarico! In movimento! Muoversi, muoversi! Stiamo tutti al passo! Procediamo! Forza! Stiamo a passo! Vivi troppo vicino! Attività, amiche, davanti a noi! Davanti! Dodici! Ne arrivano altri! Non dobbiamo perdere questa posizione! Amiche! In movimento! Contatto, ore dodici! Un nemico esce all'ucoberto! Che arrivano! Versaglia ore una! Non test! Lato destro! Nemico in movimento! Un nemico esce all'ucoberto! Non scendo! Muoversi, muoversi! Andiamo! Devo ricaricare! Non sto a destra! E' a terra! Colpo da maestro! Vivego! Soltati in pici! Avanzare! Semi cingolato! Esce all'ucoberto! Fuoco! Fuoco! Contatto, ore dodici! Preso! Ecco che arrivano! 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 Ecco che arrivano! Siamo vicino da un altro tempo! Arrivano i pesanti! Al riparo! Non stati i nemici! Si ritirano! Granato! Li abbiamo respinti! Attenti! Appena Pearson sarà qui, procederemo al punto di incontro. Stiles, Daniels, con me! Resteremo qui fino all'arrivo di Pearson, poi prenderemo il colle insieme. Se non ha già superato il mulino per andarci da solo! Non ha abbastanza uomini. Questo non l'ha mai fermato. Aspetteremo qui. E questo è quello che faremo. Col dovuto rispetto. Ma se Pearson fosse davvero andato da solo? Ci penso io, Daniels. Ho un brutto presentimento. Se decidessi in base ai tuoi presentimenti, saremmo ancora sulla barca in Normandia. Esatto. Sai come il plotone di Pearson è stato massacrato a Kasserine? Pare che la storia si ripeta. Spero di no. Voglio sapere cosa è successo. Io non ho le palle di chiederlo a Turner. Ma conosco uno che le ha. La missione è distruggere l'artiglieria tedesca tutti insieme. Ma appena Pearson potrà, entrerà al diavolo la squadra. La tensione è alle stelle tra Turner e Pearson. E sta per scoppiare. Grazie. 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 Grazie.